Io vengo da Scandiano, Reggio Miglia, non sono iscritto, non sono partito ma non è questo l'importante perché facendo fatica voglio dire qualcosa. Parto da questo, martedì sono stato a un incontro di coordinamento dei comitati dei rifiuti, insieme all'incontro a cui ho partecipato, proprio qua dove è stato rappresentato un film su Italia e la sanità delle ragioni di Romagna, mi sono venuti in mente queste considerazioni. Io penso che, io ho consacruzato la ragione per cui ho accettato la candidatura che mi ha offerto un compagno. Io penso che qua ci sia tutto, non ci sia più nient'altro. Se lunedì qualche esterno che frequenta quei luoghi dove si trovano sempre le stesse persone di sinistra fosse entrato qua dentro, vedeva le stesse facce e avrebbe detto, ci sono sempre i soliti. Ma questi soliti hanno qualcosa in comune, quindi io sono qua perché mi interessa cercare e trovare quella rete per cui possiamo lavorare su qualcosa in comune, sui beni comuni, sul lavoro, il lavoro di unità. E' per questo che lavoro a sinistra, per cercare di trovare qualcosa, per ricostruire qualcosa di sinistra. E basta, adesso sono troppo molto rilevato. Grazie.